Matteo, al centro stasera avete fatto qualcosa come 34 punti, più o meno, insomma, ci avete dato dentro. Manomale, è difficile sicuramente per i centrali essere sempre incisivi, oggi è stata una buona partita per noi, quindi... Bene, una cosa che ci portiamo a casa di molto buona sicuramente è questa qua, che si può sempre fare meglio, mi ritengo anche questa cosa, però bene. Però nel terzo set soprattutto sembrava che l'inerzia della partita fosse vostra, cosa è successo? Nel terzo set siamo partiti male, abbiamo dato per scontato forse i primi due set, quindi loro ci hanno messo sotto. Siamo stati molto bravi a riprenderli, che ce l'avevano imbattuta a metà sette, poi invece siamo stati un po' dei polli. E loro sono stati bravi, comunque sono stati attaccati alla partita, noi ci mancava questa cosa qua, è mancata in questa partita, ma ci è mancata in altre partite, dobbiamo lavorarci. Secondo te, quali ragioni ci possono essere? Dal 5 novembre che non si vince in casa da tre? Guarda, non ne abbiamo parlato, ci siamo allenati, ci siamo allenati anche bene questa settimana qua, quindi sono tante, sono molteplici, è difficile. Dobbiamo venire fuori da squadra, non ce ne c'è, chiamiamo di tutto, però dico che sicuramente col lavoro e con l'umità di mettersi a servizio di quell'altro, secondo me possiamo far meglio, perché come dici tu, vince da tre in casa qui a Modena è importante, è sempre stato un nostro valore bello da condividere col pubblico, ci manca da un po' e dobbiamo tornare a riprenderselo.